Meno di tre mesi e la Sicilia, o più verosimilmente metà di essa, tornerà alle urne per eleggere il proprio presidente. Differentemente da cinque anni fa e da diversi decenni, a questa parte la composizione della scacchiera resta ancora quasi tutta da decifrare. Naviga e avele spiegate verso il voto del 5 novembre la varca del Movimento 5 Stelle, sospinta dal vento dell'unità di intenti al suo interno e, soprattutto, dal malcontento dei siciliani. Giancarlo Cancelleri è pronto a riprovarci, ma rispetto al 2012 lo scenario sembra davvero cambiato. Sempre ricordando il 55% di assenzionismo annunciato dall'Istituto Demopolis ad inizio luglio, in quello di febbraio condotto da Piepoli, i grillini si confermerebbero ancora come primo partito, con il 32%, che intanto, secondo gli addetti ai lavori, potrebbe anche essere salito. Si profilerebbe però un'altra sconfitta coccente, dal momento che, se il centrodestra con Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega insieme non supererebbe il 25%, il PD, forte del 30%, vincerebbe ancora, grazie all'apporto minimo ma fondamentale, delle forze centriste che, con il loro 8%, porterebbero a Palazzo d'Orlean il loro candidato. Il nodo, però, è proprio questo. Volendo tralasciare la scalata di un Movimento 5 Stelle già avviato in campagna elettorale con i competitor ancora ai blocchi di partenza, in entrambe le coalizioni persiste l'indecisione sul nome da presentare. Nel centro-sinistra moderato soffia il vento del civismo sul modello Palermo che ha confermato Leluc Orlando. Proprio il primo cittadino ha incontrato oggi MDP e Sinistra Italiana nel tentativo di farli salire su un carro che, a meno di clamorosi ribaltamenti, vede già a bordo anche Alfagnani e centristi. Il sacrificio del PD per vincere queste elezioni dovrà essere appoggiare un candidato non dei suoi ranghi, con buona pace dei vari Faraone, Lupe e Cracolici. I centristi spingono per D'Alia, alternativa popolare vuole candidare l'eurodeputato Lavia, con l'ipotesi Lagalla, promossa più da se stesso e da una parte degli alleati che dall'intera coalizione. In questo frangente il centro-destra conserva un vantaggio sul centro-sinistra. Berlusconi e Miciche, insieme a Salvini e Meloni, uno stato sicuro lo hanno già, quel Nello Musumeci che, in tempi di magra, fa sempre più comodo.